Il pomodoro Casar, coltivato e lavorato esclusivamente in Sardegna, da oltre 60 anni porta in tavola la tradizione e il gusto di una volta, esaltando la genuinità di un prodotto unico, ricco di sapore, dalla freschezza e dall'aroma inconfondibili, che nasce in una terra incontaminata e generosa, oltre che nei classici polpa, passata e pelati, da oggi anche nei nuovi sughi pronti, una soluzione rapida e gustosa per primi piatti deliziosi sulla tua tavola. Solo Casar, profumo di Sardegna. Grazie.